Ciao bambini, benvenuti in questo nuovo video! Oggi giocheremo insieme a un gioco bellissimo! Si chiama Nascondino! È un gioco di dinosauri, è troppo divertente! E insieme a noi oggi giocheranno Peppa e George! Oh, ciao bambini! Oh, non vedo l'ora di giocare a quest'altro bellissimo gioco! Troppo bello, eh George? Cosa ne dici? È bellissimo quei dinosauri! Ah, ah, yuppie! Ah, ah, yuppie! Ma no, George, non avere paura, sono dinosauri finti! Quelli veri ci sono istinti, lo sai! Barba bravo e gatto boy! Oh, ciao bambini! Oh, non vedo l'ora di giocare a questo gioco! Mi sento super fortunato! Ciao bambini, benvenuti! Oh, che bel gioco! A me piacciono tantissimo i dinosauri! Bene ragazzi, allora, prima di iniziare a spiegarvi le regole, andiamo a guardare un attimino nel dettaglio la confezione! Questa, bambini, è la confezione del nostro gioco! Guardate, è tutto quanto colorato! Guardate che bei dinosauri simpatici che ci sono sulla scatola! Questa invece, bambini, è il retro della confezione! Qui ci mostra in dettaglio come possiamo giocare a questo bellissimo gioco! Bene, adesso andiamo subito ad aprire il nostro gioco e a vedere in dettaglio le regole! Ed ecco qui, bambini, questo è il contenuto del gioco! Qui troviamo tantissimi dinosauri super colorati! Poi abbiamo trovato due dadi colorati! E qui invece ci sono le istruzioni del gioco! Bene ragazzi, siete pronti? Adesso vi spiego le regole del gioco! Queste sono tutte quante le nostre tesserine! Ogni tesserina ha un lato col dinosauro coperto dal cespuglio, mentre dall'altro lato c'è lo stesso dinosauro con le macchie di colore diverso! Ogni tesserina ha un dinosauro con le macchie di colore diverso! Il vostro obiettivo sarà lanciare i dadi... E in base ai colori che escono dovrete trovare, ad esempio, il dinosauro rosso con le macchie nere! Avrete tutte quante le tesserine davanti coperte e dovrete girarle e trovare il dinosauro giusto! Io ad esempio ho appena vinto! Ho trovato il dinosauro rosso con le macchie nere! Tutto chiaro, ragazzi? Oh, sì, penso che sia tutto chiaro! Ah, bisogna lanciare due dati questa volta! Oh, troppo divertente! Bellissimo, Giorgi, sei pronto? Io questa volta vincerò sicuramente! Lo sai, io ho tantissimo fortuna in questi giochi! Ah, sono prontissimo! Ah, ecco qui, ragazzi, vi ho preparato le tesserine! Siamo pronti a giocare! Oh, aspetta, io ho una domanda! Non ci hai detto chi è che vince questo gioco? Io trovo i dinosauri giusti, ma 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 quando è che vinco? Hai ragione, Peppa, questa è un'ottima domanda! Vince chi per primo trova cinque dinosauri giusti! Oh, ho capito! Ah, sì, tutto chiarissimo! Dai, su, dammi i dati, voglio iniziare! Ecco te, Gatto, poi lancia pure i dati! Oh, che bello! Allora... Oh, è uscito rosso e giallo! Mmm, proverò a scoprire questi dinosauri rossi! Quindi, se non ho capito male, devo trovare il dinosauro rosso, ma con le macchie gialle! Esatto, Gatto, poi! Ah, ce ne sono un sacco tra cui scegliere! Mmm, proverò a girare questo qui! No, vediamo subito, Gatto, poi, sei pronto? Il dinosauro rosso è a macchie? Oh, no! Il dinosauro non ha macchie! Avresti dovuto lanciare i dati e sarebbe dovuto uscire due volte il rosso! Peccato, Gatto, poi! Il dinosauro è sbagliato! Oh, mamma mia! Il primo turno non è andato proprio granché bene! Allora, prendiamo i dati! Allora, è uscito blu e giallo! Mmm, a me piace tanto il blu! Quindi, proverò a girare un dinosauro blu e dovrà essere con le macchie gialle! Mmm, oh, mi ispira proprio questo dinosauro blu! Oh, su, proviamo a girarlo! Sei pronto? Oh, no! Il dinosauro è tutto quanto blu! Niente da fare! Su, Giorgio, tocca a te! Ah, iopi, iopi, iopi! Sì, Giorgio, devi girare un dinosauro bianco e trovarlo con le macchie azzurre! Va bene, e giriamo questo! Oh, no, Giorgio, il dinosauro è bianco! Ma le macchie nere! Niente da fare! Tocca a Beppa! Già, ma è difficilissimo questo gioco! Proviamo! Io non ho neanche tanta fortuna! Vediamo un po'! Allora, blu e arancione! Oh, mamma mia! Voglio girare questo! Questo qui, dinosauro blu! Devi avere le macchie arancioni! Dinosauro! Vediamo, Peppa! Oh, no! Il tuo dinosauro ha le macchie bianche! Non va proprio bene! Oh, lo sapevo! Uffa! Ah, su, Gatto Boy! Tocca a te! Proviamo! Allora, oh! Mi sono usciti due colori uguali! Quindi, devo trovare il dinosauro tutto arancione! Oh, vediamo un po'! Mmm, proviamo con questo! Ok, Gatto Boy, sei pronto? Sì, l'hai trovato! Hai trovato il dinosauro arancione senza macchie! È troppo carino! Oh, sono troppo bravo! Che bello! Bene, ragazzi, Gatto Boy ha appena trovato il suo primo dinosauro! Barba, bravo! Tocca a te! Speriamo di essere fortunati come Gatto Boy! Giallo e blu! Mmm, allora... Proviamo con questo! Proviamo un po'! Eccolo! Hai trovato il dinosauro giallo con le macchie bianche! Complimenti! Oh, che bello! Su, George, tocca a te! Sì, devi trovare il dinosauro arancione con le macchie bianche! Che ne dici? Ce la farai? Ah, iupi, iupi! Ah, 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 iupi, iupi, iupi! Ok, proviamo! Guarda, l'hai trovato! Dinosauro arancione con le macchie bianche! Complimenti! Cioè, fammi capire, sono rimasta l'unica a non aver trovato il dinosauro! Cioè, tutti gli altri l'hanno trovato, io no! Mamma mia! Allora, concentrazione! Prendiamo i dadi e... Allora... Blu e giallo! Allora, voglio il dinosauro blu con le macchie gialle! Lo devo trovare assolutamente! Oh, vediamo un po'! Secondo me questo qua... Ti prego, ti prego! Ok, proviamo Peppa! Sei pronta? Sì, è lui! Dinosauro blu con le macchie gialle! Bravissima! Su, Gatto Boy, tocca a te! Ah, tocca a me! Oh, giallo e bianco! Mmm, dinosauro giallo macchie bianche! Vediamo un po' se lo troviamo! Ah, proviamo con questo! Ok, Gatto Boy! Pronto? No, dinosauro giallo macchie arancioni! Mi dispiace! Oh, uffa! Ah, vediamo! Allora, arancione e giallo! Oh, decido... Decido di girare questo! Ok, vediamo un po'! No, niente da fare! Questo è arancione con le macchie rosse! Oh, che peccato! Yupi yupi! Sì, arancione e macchie nere! Mi raccomando, George! Scegli bene! Ah, ah! Ah, yupi yupi! Ok, George, proviamo, eh! Sì, è proprio lui! Arancione e macchie nere! Complimenti! Ah, yupi yupi! Ah, uffa, George! Sei il solito fortunato! Cioè, la prima volta che giochi è già sei in vantaggio! Uffa! Ah, proviamo! Allora... Rosso, rosso! Devo trovare il dinosauro rosso senza macchie! Oh, vediamo un po'! Ah, questo qui! Ah, per favore! Sei pronta? Eccolo! L'hai trovato, Peppa! È rosso come il tuo vestitino, hai visto? Oh, è bellissimo! Oh, finalmente! Come sono felice! Su, Gatto Boy! Allora... Bianco e bianco! Oh, mi ricordo! Prima è uscito, se non sbaglio! Vediamo un po'! Ah... Mmm... Forse è questo qui! Proviamo! Eh sì, è proprio lui! Bravissimo, Gatto Boy! È il dinosauro bianco senza macchie! Bravissimo! Ah, tocca a me! Arancione e blu! Mmm... Arancione e blu! Allora, è uno di questi tre! Proviamo con questo! Va bene! Eh sì, è proprio lui! Bravissimo! È il dinosauro arancione con le macchie blu! Sei stato bravissimo! Vai, George! Ah! Arancione e macchie gialle! Ah! Ah! Iupi, iupi! Ok, George! Sei pronto? Bravissimo! Dinosauro arancione e macchie gialle! Sei stato bravissimo! No, ma non è possibile! Non è proprio possibile! Ma per una volta posso vincere io? Per favore! Uffa! Allora, rigiriamo i dadi! Mamma mia! Allora, dinosauro giallo macchie bianche è uscito, quindi dobbiamo fare dinosauro bianco macchie gialle! Speriamo! Mmm... Allora... Mmm... Secondo me è questo qui! Ok, Peppa! Pronta? Eh sì, è proprio lui! Dinosauro bianco macchie gialle! Bravissimo! Stai recuperando alla grande! Ah, meno male! Ah, cavolo, sono in svantaggio! Devo assolutamente recuperare! Mmm... Allora, andiamo un po' dei dinosauri rossi! Ok! Mmm... Mi ispira questo! Troviamo! È proprio il dinosauro rosso con le macchie blu! Complimenti! Oh, che bello! Ho recuperato alla grande! George, è la tua occasione! Se trovi il prossimo dinosauro, avrai vinto la partita! Ah, iuppi iuppi! Ah, iuppi iuppi! Mmm... Ah, iuppi iuppi! Iuppi iuppi! Mmm... Ah... George, posso darti un suggerimento? Scegli questo qui! Mmm... Mmm... Iuppi iuppi! Ah, ah! Iuppi iuppi! Va bene, George! Hai scelto di non seguire il consiglio di Peppa! Vediamo un po' se hai ragioni tu! Bravissimo, George! Hai vinto! Sei il vincitore! Ah, iuppi iuppi iuppi! Ah, iuppi iuppi iuppi! Iuppi iuppi! No, vabbè, ma non è giusto, uffa! Non volevo farti perdere, George, ma io sono tanto sfortunata, uffa! Che uffa, mamma mia! Però sono contenta che ha vinto il mio fratellino! Ah, ah! Ah, bravissimi ragazzi! Siete stati davvero tutti quanti molto molto bravi! Ma il più bravo di tutti è stato George! George è il vincitore! Ah, bravissimo, George! Complimenti! Oh, è piccolino, ma è tanto fortunato! Bene, bambini, la nostra sfida finisce qui! Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel pollicino in su! Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi cliccando qui! E per vedere altri video dei vostri personaggi preferiti, cliccate qui! Noi ci vediamo in un prossimo video! Ciao, bambini!